Ma cos'è quella torre che svetta lì a Milano, dietro a Palazzo Reale, ad un passo da Piazza del Duomo e dal Duomo? Voglio proprio soddisfare questa mia curiosità. Basta poco, una camminatina di 200 metri per arrivare nella via dedicata all'architetto Francesco Pecorari. Lì c'è la chiesa di San Gottardo in corte, detta anche San Gottardo a Palazzo, proprio per la vicinanza con Palazzo Reale, con il suo campanile. La chiesa purtroppo non ha più un gran valore storico e artistico, rifatta e rimaneggiata più volte nei secoli, ma all'interno conserva autentici capolavori di pittura, mentre il campanile, con la sua torre esagonale, abbiamo scoperto che è il primo esempio di orologio pubblico della storia in tutto il mondo, un record. Era il 1335. Inventato pare 300 anni prima dai soliti cinesi, quello fu il primo orologio pubblico e per la prima volta i milanesi sentirono un orologio scandire le ore e il passare del tempo. Prima, infatti, su Torri e Campanili vi erano delle semplici meridiane. L'orologio era costituito da un meccanismo che scandiva il passare delle ore con una campana. Le ore erano quelle cosiddette medie. Il giorno era diviso in 24 periodi di uguale durata partendo dal tramonto. Un rintocco indicava la prima ora della notte e al tramonto i rintocchi erano 24. Ma l'orologio pubblico di San Gottardo in corte, con il tempo scandito e l'automatismo del meccanismo, destò tale scalpore che la via dove si trovava venne chiamata Contrada delle ore e anche adesso lì di fianco c'è via delle ore. Anche la chiesa fu costruita nel 1335 per volere di Azzano Visconti e il simbolo della famiglia milanese, il serpente, è ancora ben visibile alla base della torre. L'orologio di San Gottardo è il primo orologio pubblico, ma i milanesi si accontentavano di sentirlo, di ascoltarlo. Non c'era un vero e proprio quadrante da vedere. Per quello bisognerà aspettare il campanile di San Teustorgio, sempre a Milano, di lì a qualche anno, dotato finalmente delle lancette delle ore, quelle dei minuti arriveranno nel 400, consultabili girando la testa verso l'alto, un'autentica rivoluzione. A tutt'oggi però né il campanile di San Gottardo né quello di San Teustorgio hanno un orologio visibile. Peccato. E peccato pure che pezzi di storia così importanti siano un po' lasciati nel dimenticatoio della conoscenza e a tirarli fuori dall'oblio ci può pensare soltanto la curiosità di ciascuno di noi.